Amici di Footballisme Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video di calcio e mercato in cui parleremo di Verdi. Simone Verdi che passa dal Bologna al Napoli per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Per il Napoli il mio modo di vedere è un buon acquisto perché è un esterno d'attacco italiano che conosce abbastanza bene la Serie A. È un giocatore bravo nel puntare l'avversario, abile nel fornire gli assist. Non è molto preciso negli ultimi metri ma rimpiazza questa sua carenza con un buon tiro dalla distanza e sui calci piazzati. Abilità che gli ha permesso di segnare un discreto numero di gol. Altro aspetto da non sottovalutare è il fatto che Sarri lo abbia già allenato. E lo ha allenato ai tempi di Empoli. Io credo che Verdi sia una buona alternativa in attacco a Insigne e Cagliacón. Può giocare come esterno nel 4-3-3 ma può essere anche un trequartista nel 4-3-1-2 qualora si decidesse di provare a cambiare modulo, cosa che comunque reputo molto, molto, molto poco improbabile. È comunque un buon acquisto, una buona alternativa ai giocatori d'attacco se vuoi puntare allo scudetto. Solo che questo non deve essere l'unico acquisto ma servono altri giocatori. Se volete sapere cos'altro deve fare il Napoli sul mercato, restate sintonizzati sul mio canale che domani alle 16 caricherò un video dove parlerò delle mosse di mercato che Napoli deve fare in questa sessione. Va bene ragazzi, questo era un po' quello che penso di Verdi, del passaggio di Verdi dal Bologna a Napoli. Fatemi sapere come la pensate, come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, ad attivare la campanellina in modo da rimanere aggiornati con i miei video, a iscrivervi ai vari canali di YouTube Football Project, trovate tutti in descrizione. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!